Il totale dei decessi è 452, quelli odierni sono 35, età media 79 anni con il 95% di patologie pregresse, 5 invece le persone decedute fuori regione. Sono invece 1165 nelle Marche al momento le persone ricoverate a causa del coronavirus, 167 quelle più gravi degenti in terapia intensiva, 315 in semi-intensiva, 523 in reparti non intensivi, 160 in area post-critica e 2086 positivi in isolamento domiciliare. Lo fa sapere il Gores nel consueto aggiornamento quotidiano, sono invece guariti in 16 e 161 dimessi dagli ospedali dopo un ricovero connesso al covid-19. In totali positivi al virus nelle Marche sono 3.684, 1.639 in provincia di Pesaro Urbino, 1.060 ad Ancona, 477 nel Maceratese, 246 in provincia di Fermo, 197 nel Piceno e 65 provenienti da fuori dalle Marche. Tra quelli che hanno avuto contatti con persone positive ma non hanno fatto il tampone sono 6.522, quelli in isolamento in casa, 1.677 con sintomi e 4.845 asintomatici, di cui 695 operatori sanitari. In regione sarà disponibile in 72 ore un ospedale da campo della Marina, 40 posti letto gestiti dal personale della Marina e 4 di terapia intensiva codiuvati da uno staff di medici e rianimatori che il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha riservato le Marche dal 2 aprile. La struttura sarà posizionata a supporto dell'ospedale di Iesi per rafforzare la risposta della regione all'emergenza coronavirus e l'impegno a sbloccare l'arrivo dell'ospedale da campo cinese, ora fermo per problemi burocratici in Cina.